Il nostro progetto nasce dalla nostra tradizione della neurologia di Modena che da sempre si occupa di diagnosi e diagnosi precoce dei disturbi cognitivi delle demenze. In questo senso nel corso degli anni, anche con la strutturazione del percorso per la diagnosi dei disturbi cognitivi delle demenze della provincia di Modena, ci siamo resi conto che mentre di solito si pensa alla demenza come una malattia che colpisce le persone anziane e solamente le persone anziane, in realtà molto spesso, più di quanto ci saremmo anche aspettati, ci siamo trovati di fronte a casi di demenza d'esordio precoce, giovanile, e per giovanile intendiamo prima dei 65 anni di età. Ci siamo quindi chiesti se questo fenomeno fosse sufficientemente studiato nella letteratura medica e ci siamo resi conto che no, non lo è. Perché sia dal punto di vista epidemiologico che dal punto di vista clinico e delle ricadute pratiche dei bisogni delle persone affette e delle loro famiglie, i dati in letteratura sono scarsi e sono discordanti a livello mondiale, europeo e anche italiano. E quindi abbiamo pensato di condurre un progetto di ricerca sulle demenze ad esordio giovanile, cioè prima dei 65 anni di età, nella provincia di Modena, con intento di andare a intercettare in modo capillare tutti i casi esistenti nella provincia di Modena e di fare una diagnosi precisa a queste persone, perché pensiamo che una diagnosi precisa, puntuale e precoce sia importante per impostare un percorso assistenziale corretto e per ottenere anche un buon rapporto medico-paziente, che è sempre il fondamento di una buona relazione di cura.